Ciao a tutti da Osaka. Siamo qua con Filippo. Io, scusate, io Filippo e questo mio amico giapponese Masataka che ci ha portato. Ciao a tutti. Mi chiamo Masataka dal Giappone. Lui è da Osaka. Lui è mio amico Filippo e poi ci sono io. Praticamente siamo venuti in un posto a Osaka, vedete, in un'area che si chiama Omeda. Omeda. Si fanno la carne alla griglia, grigliata. Si chiama in giapponese il nome Yakiniku. No, 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 il nome Yakiniku. Yakiniku si dice in giapponese e vedete che praticamente si prende della carne e si fa grigliare su questa griglia. Sotto c'è il carbone, la braccia. E poi pian piano si mangia. Questo è un bellissimo posto come potete vedere. Ci si mette con i piedi sotto al tavolo. C'è una conca qua sotto, scusate ma non riesco forse bene a farvi vedere. E quindi in perfetto stile giapponese. Tradizionale. Da seduti, mangiare da seduti. Sit. E' molto comodo. E' bello. E niente, stiamo mangiando. E' tutto molto buono. Guarda, guardate, bellissimo. C'è una carne di maiale, arrosto, salsiccia, di tutto. Il pollo. Il pollo. C'è un po' di tutto. Molto bene con il posto. E l'entitore comincia mangiando. Com'è? Buono? Ti piace? Si mangia bene? Qua è tutta roba fresca, vedete? Si cucina sul momento. C'è questo piatto dove c'è la carne. Lui praticamente la gira. C'ha queste pinze, diciamo qua. Viene girata e poi si mette subito nei piatti. Comunque adesso, evitando che si raffreddi troppo la carne, noi continuiamo la cena, che è buonissima. E vi salutiamo e al prossimo video da Fabrizio, Filippo e Masataka. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.